Venerdì 23 luglio 2021, buongiorno, rieccoci in diretta, nuovo appuntamento con la rassegna stampa di 696 TV e allora insieme come d'abitudine andiamo a leggere le notizie che potete trovare nei quotidiani quest'oggi in Edicola e poi la parte finale sarà dedicata al web con ampio spazio al nostro portale 8pagine.it in regia Aldo Fenizia, ci fa intravedere le prime dei quotidiani cartacei e carichiamo insieme quella del Roma, lo storico quotidiano di Napoli. In apertura la notizia drammatica in relativa alla giornata di ieri, la tragedia che si è consumata a Capri dove un minibus è precipitato a Marina Grande, un morto e 24 feriti. L'autista rimasto ucciso stava per diventare papà e lo vediamo in questo riquadro fotografico. In taglio alto altre notizie da approfondire all'interno del Roma oggi in Edicola, Green Pass dal 6 agosto a Napoli aeroporto blindato allo stadio e al bar con la carde. Poi le proteste non fermano il G20, l'appello dell'arcivescovo, il documento che riconosce la finanza verde e sempre nella prima del Roma, taglio basso, altre notizie nei box che poi richiamano appunto ovviamente notizie all'interno del Roma stesso. Politica, Salvini con Maresca conquisteremo Napoli, il leader della Lega in città e poi uccise la moglie in cassa, 30 anni, delitto fortuna bellissario e questo è il verdetto. E poi ancora rapina nel sangue, ancora cronaca all'ombra della cosca, il giallo di Salvatore Rosa e poi Castellammare di Stabbia, Monte Faito e Lettere distrutte, piantagioni di cannabis indica pronta per lo spaccio. Queste le notizie nella prima del Roma e andiamo allora all'interno con la tragedia che si è consumata a Capri. Minibus precipita a Marina Grande, la causa probabile, malore dell'autista. L'incidente, dramma a due passi dalle Odine, un morto e 24 feriti, Alvaio, le immagini delle telecamere. E davvero questa foto più che mai si commenta da sola nella sua drammaticità. Le reazioni politiche, si valuta l'indagine nella commissione parlamentare, il racconto del titolare dello stabilimento balneare da Gemma poteva andare pure peggio. E poi domani sarò lì, Peppino di Capri, quelle stradine sono pericolose. Taglio basso, il sindaco di Capri, Marino Lembo. Ora il momento del dolore, indagini accerteranno i fatti. La macchina dei soccorsi ha funzionato bene. Altra pagina sulla tragedia a Capri. Il rione Sanità piange, Manuel Occio sarebbe diventato papà tra pochi mesi. La vittima, il 33enne napoletano Emanuele Melillo, era alla guida del bus. La compagna, incinta da tre settimane. E' davvero un dramma nel dramma. Grande tifoso del Napoli, Manuel Occio, volontario della Croce Rossa. I colleghi, era un autista esperto. In questo scatto fotografico c'è Emanuele Melillo a bordo di un bus. Nel riquadro, questo qui lo vedete, insieme con Driss Mertens, l'attaccante del Napoli. E poi tutti trasportati all'ospedale del mare. Nell'incidente coinvolti anche quattro stranieri. Parliamo dei feriti nel corso di questa tragedia. In 15 ricoverati a Napoli ci sono due bambini. Predisposto un servizio di supporto psicologico per superare il trauma subito dai passeggeri. E poi i sindacati verificare le condizioni di sicurezza. UIL Trasporti, Filt CGL e UGL Fien. Ennesima morte sul luogo di lavoro. L'USB revoca lo sciopero previsto per oggi. E allora dopo questa ampia ressegna tra le pagine del Roma andiamo a vedere anche il servizio firmato da Sarabotte. E di una vittima e 28 feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi questa mattina a Capri dove un minibusso di linea dell'ATC è precipitato per 5 o 6 metri rompendo la barriera di protezione della strada nella zona della spiaggia libera di Marina Grande. A perdere la vita l'autista 33enne originario di Napoli Emanuele Melillo già padre di una figlia qualche giorno fa aveva annunciato la gravidanza della nuova compagna. Sarebbe stato colpito da un infarto che lo ha fatto finire fuori strada. Quattro i feriti in gravi condizioni tra cui un bambino trasferito in elicottero a Napoli. Sul posto per i rilievi la polizia scientifica e i vigili del fuoco nelle testimonianze di chi ha assistito all'incidente il dramma di quei minuti. Dovevamo prendere quel pullman lì e soltanto che siamo arrivati in ritardo di 5 minuti, meno male e abbiamo sentito delle urle, abbiamo sentito della gente che urlava, faceva casino, non sapevano cosa fosse successo. Stavano arrivando i primi soccorsi così e ci siamo resi conto del disastro. In due o tre secondi abbiamo visto il pullman che si è cavolto. Abbiamo sentito prima una botta fortissima e abbiamo visto due o tre cavolto il pullman. È stata davvero una tragedia. Io sono corso subito sul posto a vedere cosa era successo. Era una situazione bruttissima. C'erano dei bambini all'interno del pullman. Sul luogo dello schianto anche il sindaco di Capri, Marino Lembo, che ha chiarito come i soccorsi siano stati velocissimi e che la priorità ora sia stare vicino alle famiglie coinvolte. Scossi anche i sindacati che hanno ricordato come il collega morto fosse un autista esperto. Ancora il Roma, pagina 6. Questa è una notizia relativa all'emergenza pandemia, al focus sull'emergenza pandemia. Discoteche chiuse, maxiricorso. Il SILB, da 18 mesi 100.000 lavoratori senza stipendio e ammortizzatori sociali. Esclusi il premier Draghi promette ristori per chi non potrà ripartire, ma i gestori non ci stanno. Appello alla Corte europea. E poi tante notizie all'interno del Roma che arrivano dalle varie province campane. Questa è la pagina dedicata ad Avellino. Scontro nel PD. Sindaco e Petitto sono fuori. Nulla di fatto nel Summit a Roma sul Congresso. Del basso di Caro. Posizione assurda. Assurda. E poi, altra pagina, questa è quella dedicata, una delle pagine dedicata a Benevento. Dedicate a Benevento. Aggressione al Fatebene Fratelli. Gli indagati. Ecco com'è andata. Covid. Una colluttazione è venuta durante le lunghe code per ricevere il vaccino. L'avvocato Raffaele Scarizzi. Fatti di tutt'altro tenore rispetto a quelli raccontati dall'operatore dell'ospedale. Andiamo avanti. Altre aperture per quanto riguarda le pagine delle province campane all'interno del Roma. Ancora Benevento. Sì al bilancio di previsione con i voti della Diaspora PD. Comune. In consiglio va vuoto il diktat dei De Cariani che ora minacciano espulsioni. Nella foto vedete Mastella che stringe la mano a Del Vecchio. Del Vecchio, le sue parole. Non mi ricandido alle comunali ma votare sì è stata scelta coerente con la politica regionale del partito. Da Avellino siamo su Salerno. In apertura massacrarono sedicenne incastrata la gang Giffoni Sei Casali. L'indagine del Tribunale dei Minorenni condotta dai carabinieri beccati undici ragazzi. E adesso dopo questa ampia panoramica delle pagine del Roma. Appuntamento in edicola. Ci spostiamo sulla Repubblica Edizione Nazionale. In apertura Novax. Un invito a morire. Draghi attacca le ambiguità di Salvini e Meloni e insiste sulla campagna di immunizzazione. Senza vaccinazioni si deve chiudere tutto di nuovo. Il leader della Lega chiede solo prudenza. Dal 6 agosto obbligo di Green Pass per locali al chiuso. E poi tasse. Franco presenta il nuovo fisco. Valute minatori di bitcoin dalla Cina al Texas. Tante altre notizie. Giustizia. Il governo si ha la fiducia sulla riforma a Cartabbia. E poi Rossi e Di Matteo si dividono anche i giudici. La lite. Lo sparo. Tutti i dubbi sul caso Voghera. Sempre nella prima della Repubblica Edizione Nazionale. Il Summit di Napoli sull'ambiente plastica e mare. Prima intesa al G20. E poi andremo ad approfondire anche questa tematica. Questa è la prima. Andiamo con la speculare di pagina 2 e 3 della Repubblica Edizione Nazionale. L'Italia contro il Covid. L'era del Green Pass al via dal 6 agosto. Per non richiudere le nuove regole del governo. Il ministro Speranza. Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Vogliamo evitare che una crescita del contagio porti a nuove chiusure generalizzate. E poi scuole e nidi per ora restano fuori. Ma rientrano tra i temi da affrontare a breve. Il retroscena a pagina 3. Il giorno nero del leghista sorpreso dalle sue parole. Io chiedo solo prudenza. Il segretario deluso anche per le discoteche. Eppure gli avevo garantito lealtà su giustizia e fisco. E ancora le scelte del governo. Lo schiaffo di Draghi e Salvini. Di cui abbiamo letto appunto il retroscena con le parole di Salvini stesso. Appello Novax. E invito a morire. Parole durissime del Premier Draghi che ha spiegato i provvedimenti. Non sono un arbitrio, chiedo scusa, ma la condizione per aiutare l'economia. La variante Delta è una minaccia. E ancora altre due pagine della Repubblica Edizione Nazionale. 4 e 5. Il dossier Green Pass QR Code. In tasca, nei bar e cinema, non sul treno. Dal pranzo alla cultura, al tempo libero, come e quando va esibito. Scaricati già 40 milioni di certificati, ma in molti non ci riescono. E poi l'incidenza passa in secondo piano. I colori delle regioni legati ai ricoveri. In quattro evitano il giallo. Contaggi oltre 5.000. Sardegna, Lazio, Veneto e Sicilia rimangono bianche. Dalla Repubblica Nazionale ci spostiamo ora sulla Repubblica Edizione Napoli. Dove in apertura c'è ovviamente la tragedia che si è verificata a Capri. Con paura e dolore che vengono ovviamente evidenziate per il bus che è volato giù sulla spiaggia. Poteva essere una strage. Il bilancio muore l'autista e arrestano feriti 23 passeggeri. Prima ipotesi, Emanuele Melillo, colpito da un infarto, avrebbe perso il controllo del mezzo in corsa. E questo, il bus capovolto è finito all'interno del Lido Le Ondine. E poi ancora emergenza Covid, nuova ordinanza della regione. Grimpasso tamponi a Capodichino per chi arriva in città dall'estero. La sentenza, il delitto fortuna, 30 anni al marito, fu omicidio volontario. E poi la politica, fico, ma le lingue nei 5 stelle, ma il patto con il PD serve. E poi il caso, statua Maradona, la lette finisce in tribunale. E ci spostiamo, come preannunciato, sul tema del G20. Oggi si chiude il vertice, la carta di Napoli. Applausi a Palazzo Reale per l'accordo sull'ambiente. Mentre i ministri discutevano, in piazza la protesta dei comitati, liberateci dalla terra dei fuochi. E allora, vediamo questa fotografia in piazza Plebiscito. John Kerry entra al vertice G20 e poi via Medina, la manifestazione di protesta contro il G20. Approfondiamo anche questo tema con un altro servizio. E allora, andiamo a vederlo insieme. Dopo mesi di preparazione, settimane di negoziato e un anno stop di due giorni, è stato approvato il comunicato G20 Ambiente, il primo della due giorni napoletana, a darne notizie al ministro della Transizione Ecologica. Grande gioia da parte di tutti i delegati dei 20 e più paesi che hanno preso parte ai lavori nella cornice di Palazzo Reale e da remoto. E grande soddisfazione dello stesso Cingolani, che ha ringraziato personalmente tutti, negoziatori, esperti, tecnici, e ha dato l'annuncio durante la plenaria conclusiva della giornata. Nelle stesse ore in cui si svolgeva il vertice internazionale, i No Global sono tornati in piazza. Nel pomeriggio, gli attivisti del social forum si sono dati appuntamento a Piazza Dante, da dove è partito il corteo, aperto dallo striscione G20, vedi Napoli e poi muoviti e il G20 balla sul Titanic, salviamo il pianeta. Per cambiare bisogna necessariamente, concretamente, diversificare le fonti energetiche, basta fossile. E oggi siamo qui perché evidentemente quello che ci vengono a proporre è soltanto qualcosa di fittizio, possiamo dire. In realtà tutte quelle che sono le politiche rispetto al clima, all'ambiente, alla transizione ecologica sono state già decise. Ed evidentemente quando noi andiamo a parlare di giustizia climatica noi andiamo a parlare anche di giustizia sociale. Questa regione, nello specifico, aspetta da 30 anni un piano di bonifica reale, un piano per la gestione dei rifiuti che ancora oggi vediamo incendiare lungo le nostre strade, l'asse mediano, ma in tanti altri territori che diventano discariche abusive e che determinano un tasso di mortalità per tumore enorme. Il corteo si è diretto verso la zona rossa di Piazza Plebiscito ed è stato bloccato in Piazza a 7 settembre da un forte sbarramento del reparto mobile della polizia. Le forze dell'ordine sono disseminate lungo i possibili percorsi verso Piazza del Plebiscito nel timore di un blitz di gruppi di manifestanti, ma non si sono registrati particolari scontri anche se l'attenzione resta altissima nelle prossime ore in vista della seconda giornata di lavori dedicata ai temi più spinosi e divisivi, energia e decarbonizzazione. Il mattino edizione nazionale in apertura, la nostra vita con il Green Pass dal 6 agosto sarà obbligatorio per bar e ristoranti al chiuso, eventi, sport, cinema, musei e palestre. Draghi, l'appello a non vaccinarsi e un invito a morire. De Luca, stretta sui controlli a capo di Chino. La riforma, giustizia, sì alla fiducia, ma ascolteremo tutti e ancora. La riforma cartabbia, così cambia il fisco. Nuova IVA, addivo IRAP, le tasse semplificate. Ancora andiamo a leggere altre notizie dopo i focus sulle riforme in taglio alto. Pandemia e diritti, sempre nella prima del mattino edizione nazionale, l'ultima via dell'incentivo con un po' di forzatura. Sempre in taglio centrale c'è la tragedia a Capri, terrore a Capri. Morto l'autista a trentenne, colpito da infarto, due bambini tra i 23 feriti. Il bus piombato sui bagnanti. È davvero drammatica ancora una volta questa immagine che viene proposta nella prima del mattino edizione nazionale. Documento comune, il G20, l'abbiamo visto nel servizio di Rossellastrianese. Ambiente, se Napoli mette insieme, Stati Uniti e Cina. E poi oggi al via i giochi olimpici, la scommessa di Cocchio, le Olimpiadi della Resistenza. La cerimonia riservata a soli mille invitati, senza pubblico. Sarà un'Olimpiade ovviamente segnata dal Covid. Il mattino edizione Napoli in apertura. Lavoro prove d'alleanza tra i quattro candidati a sinistra. Documento unitario per la vertenza. L'Ira di Maresca strumentale. Le comunali, primo esperimento di dialogo. Laboratorio per l'eventuale ballottaggio. E poi il summit. Anche i residenti in trappola. E oggi sciopero del trasporto. G20, la città in ostaggio. In piazza, il popolo del no. Il centrodestra. Salvini spinge il PM. Noi senza il simbolo. Da civico, Catello vince. Parliamo ovviamente del patto Salvini-Maresca. E poi la violenza sulle donne. Fortuna. Il marito condannato a 30 anni. Omicidio volontario. In appello appena triplicata all'assassino. E poi ancora il caso De Flavis. Assolto un calvario infinito. La mia vita distrutta. Taglio basso. Statua di Maradona. Diffida al comune. Il caso stop del Napoli. L'omaggio al PIB. Avverrà all'esterno dello stadio. La storia. Ammalato di cuore salvato dalla morte dal fratello. E poi andiamo ancora avanti con un'altra prima pagina. Ed è quella del mattino edizione Avellino. In questo caso il tema proposto in apertura è relativo all'ANAC che bacchetta il comune. Così titola il mattino edizione Avellino. Il caso. L'Archistar ha già rinunciato. L'autority boccia la procedura nel merito non rispettata. La libera concorrenza. L'anticorruzione. Il restyling della dogana. Non poteva essere affidato direttamente a Fuxas. E poi la politica. Regione. De Mita. A capo del nucleo investimenti. Il finanziamento. Festa si consola. Con i 37 milioni per gli alloggi delle periferie. Periferie e taglio centrale. La sanità colletta per il frangipane. L'ospedale di Benevento manda pediatri ad Ariano. I servizi sociali. Sempre nella prima del mattino edizione Avellino. Consultori al palo. Mazza. Pressing per chiudere. L'iter con l'asl. E poi Monteforte. Una mazzetta per entrare in penitenziaria. Finisce in carcere. Un sindacalista della USPP. Ai domiciliari un giovane di Mugnano del Cardinale e suo suocero. L'udienza Clampartenio e Aste Formisano in aula. Sono una vittima. E ancora la votazione camera penale. Il direttivo elegge Iorio Presidente. Taglio basso. L'addio silenzioso di Paternopoli a Picchio de Rienzo. La cerimonia. I funerali dell'attore. Il calcio. I biancoverdi ufficializzano Messina. Continua il pressing per l'ex Trotta. Ed è un'idea. Anche il ritorno di Gigi Castaldo che si è svincolato dalla Casertana lo scorso 30 giugno. Da Avellino siamo su Benevento dove in apertura c'è l'ok in consiglio per il bilancio con l'aiuto dei De Lucchiani. Intesa elettorale. Ma stella non avrete il mio scalpo. Giallo in Forza Italia. Russo si astiene. Il PD attacca il dissidente del vecchio. Un anno fa diceva mai con il primo cittadino. E poi la lettera, firma di Fulvio Bonavitacola, diga, iter condiviso e nodo fa bisogno. E ancora altra notizia di spalla. La campagna. Vaccinazioni mancano all'appello 10.000 over 12. Mentre in taglio centrale, sì, della regione a 14,5 milioni. L'assessore è sinergia con Unisagno. La bucheria diventa una realtà. Fondi per Malies ed ex Orsoline. E poi i comuni al top dei consumi. Prima i lavori. Droni per i controlli sugli sprechi d'acqua. C'è l'altolà dei sindaci. Chiesto vertice dopo l'appello di Ciarcia. Sant'Agata dei Goti. Notizia della provincia di Benevento. Stop plesso infanzia. Altri veleni e richiesta di accesso agli atti. Spazio anche al calcio. Giallorossi, cantiere aperto. Pari nel test con il Foligno. 2 a 2 il risultato finale. Da Benevento ci spostiamo sul mattino edizione Caserta. Anche in questo caso. Demo l'altura della notizia in apertura. Il bilancio di Marino passa in consiglio. Italia viva. Si spacca i nodi della politica. La seduta prima delle elezioni. L'assessora Martino. Buon risultato. Uscire dal dissesto il prossimo passo. La campagna elettorale. Centrodestra. Pressing di Salvini. Su Zinzi. Non si perda tempo. E poi il corteo di protesta dei tifosi. Assedio al municipio. La casertana deve restare in serie D. Ovviamente c'è l'esclusione dei rosso-blu. Vedete questo corteo di tifosi della casertana. Che hanno protestato dopo l'esclusione della casertana. I parcheggi. Aversa Centro si ribella. Sulle strisce blu costano troppo. E poi Maddaloni. La crisi rifiuti fu gestita male in comune. Il comune è condannato. Taglio centrale. Covid. Record di vaccini. Iproff. Ma non basta la pandemia. Russo manager Asla. Bisogna convincere le famiglie dei dodicenni. Si eviterà la didattica a distanza. L'estate a lavoro. Presidi a lavoro per tutta l'estate. Dobbiamo organizzare i rientri. E poi sete della libertà. La mostra del riscatto. Tanti temi come vedete nella prima del mattino edizione Caserta. Da cui noi ci spostiamo per trasferirci sulla prima del mattino edizione Salerno. Ci apprestiamo a ultimare la parte della nostra rassegna ampia e delicata ai quotidiani cartacei. Mattino edizione Salerno in apertura Movida. C'è la stretta sui locali. Il by night. I controlli summit in prefettura. Disposto un nuovo piano contro feste abusive ed assembramenti. In 400 al bar Canasta arrivano i carabinieri. Dolce Vita scatta la chiusura per l'evento rap. Le opere pubbliche. Lungomare. Tafuri rispunte al progetto del parcheggio. Poi la testimonianza. Nel mio locale puoi cenare solo con il Green Pass o la doppia dose. E poi nel processo. Due sfumature. Due processi. Sistema Cariello a Eboli. L'accusa chiede nove anni per corruzione. Droga in carcere. Cuomo si difende. Ma io a Nocera non sono il boss. Serie A. Sport in taglio centrale. Si punta a chiudere entro agosto. Ma Radrizzani si sfila. Salernitana. Un mese per la cessione. Continua la corsa contro il tempo del club Granata. E poi rissa tra baby gang con armi e bastoni. Undici ragazzini nei guai. La violenza. L'allarme. Si credono impuniti. Danni al cervello per la vittima sedicenne. E i bulli. Dalle guardie. Ce ne freghiamo. L'appello. Delitto vassallo. L'SOS dei fratelli. Riaprite subito le indagini. E poi il festival di Giffoni. La decisione condivisa da sindaco e organizzatori. Stop ai concerti. Garantiamo sicurezza. Avanti con la prima delle cronache del direttore Tommaso D'Angelo. Disponibile, come ormai sapete, da tempo online. A soli 50 centesimi. In apertura Gaiano. Un fatto positivo per il turismo. Molte disdette inglesi. L'imprenditore dice sì all'iniziativa del governo. Nuova ordinanza di De Luca perché arriva in campagna. Serve il Green Pass. Abbiamo solo italiani. Il danno lo stiamo toccando con mano ogni giorno. E poi Tutino dice no al Parma per ritornare alla Salernitana. Anche questa notizia di sport. E adesso il web. Il nostro portale ottopagine.it. Eccoci con la notizia in apertura. Spazio allo sport. Benevento Foligno. Giallorossi Spreconi. Termina 2 a 2. Andiamo a vedere nel dettaglio. I ragazzi di Caserta due volte in vantaggio. Prima con Kragl. Poi con Di Serio. Ovviamente tanti approfondimenti. Approfondimenti anche nel corso del Tg Sport delle 14 e 30. Speciale mercato di questa sera. L'appuntamento quotidiano per un ampio focus su tutte le campane. Anche dal ritiro ovviamente del Benevento a Cascia con la nostra Sonia Lantella. Capri. Le indagini faranno il loro corso. Ma ora è il momento del dolore. La tragedia del bus precipitato su uno stabilimento balneare. Tutti gli aggiornamenti sul nostro portale ottopagine.it. in tempo reale. E poi i draghi. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali. Muori oppure fai morire. Molto sintetico, duro, crudo. Il Premier in risposta al tema dei Novax. Con annesse polemiche anche all'interno del governo. E poi i contagi in aumento. Il Gifoni Film Festival sospende gli eventi serali. Penalisti. Plebiscito per Iorio nel segno della continuità. Avellino eletto il nuovo presidente della Camera Penale Irpina. Con otto voti su sette. E allora iniziamo a vedere anche le varie notizie in rilievo nelle sezioni all'interno di ottopagine.it. In Italia abbiamo detto del duro monito di Draghi. L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Ma c'è anche spazio per la cabina di regia. Dal 5 agosto Green Pass al chiuso per tavoli, bar e ristoranti. E poi Mondo. Capitana Reggenti e segretario di Stato di San Marino a Tokyo. L'autorità di San Marino in Giappone alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. di sezione Campania. Covid in Campania sono 352 nuovi positivi e un decesso è il bollettino dell'unità di crisi. Dalla sezione Campania a quella Avellino. In apertura 37 milioni per le periferie. Ammessi a finanziamento tre progetti. Da Avellino a Benevento dove in apertura c'è questa notizia. Comune di Benevento, Urban Center finanziato per 14,5 milioni di euro. Da Benevento a Caserta, sangue sull'asse mediano, muore ciclista. Andiamo a leggere i dettagli di questa notizia che è stata caricata pochissimi minuti fa. Fatale l'impatto con un furgone in transito. Allora c'è questa ultima ora. Leggiamo. Si indaga. Sangue sull'asse mediano lungo la strada statale 162 in direzione Villa Literno a causa di un incidente avvenuto al chilometro 23-400. Per cause in corso di accertamento un furgone e un ciclista sono entrati in collisione e nell'impatto quest'ultimo ha perso la vita. Sul posto le forze dell'ordine insieme ad una squadra dell'ANAS per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Code e rallentamenti sotto un sole bollente. Da Caserta su Napoli continuiamo all'interno di Ottopagine.it la tragedia a Capri. Le indagini faranno il loro corso ma ora è il momento del dolore. Cattolici Popolari Uniti. Gesù è il nominato commissario provinciale a Napoli. Notizie anche relative alla politica. E Salerno chiude le province all'interno di Ottopagine.it. Campane. Abbiamo detto dei contagi in un momento che hanno determinato che il Giffoni Film Festival abbia deciso di sospendere gli eventi serali e poi due rapine in seguimenti in poche ore arrestato 62 anni a Cava. L'uomo ha rubato ieri sera un'auto e questa mattina un furgone del latte. Ovviamente questa mattina è relativa a ieri mattina e c'è anche questa notizia di cronaca in evidenza. Prima pagina di Ottopagine.it. Leggiamo un'ultima notizia in taglio basso. Come sarà l'anno scolastico 2021-2022 e l'intervento dell'Avvocato Gino De Pietro che potete leggere sia dall'aumdiottopagine.it o nella sezione Benevento del nostro portale. Per il momento direi che è davvero tutto. Non mi resta che augurarvi buon inizio di giornata e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.